Benvenuti amici, io sono Salopimpos e oggi ritorniamo su Luigi's Mansion 3 Allora, l'ultima volta abbiamo affrontato la discoteca e sconfitto il fantasma DJ Bene, adesso siamo all'attico ragazzi Credo che sia l'ultimo postaccio di sto gioco Tra l'altro è molto... Che c'è lì? C'è un bu che vola C'è un bu nascosto Aspetta un attimo che qua mi aggrediscono Sì, si incipiati Come faccia ad avere del personale così incapace? Luigi non avrebbe mai dovuto arrivare fin lì E invece sono arrivati Forse ho sottovalutato te e quel professore Forse Complimenti per essere arrivato fin qui Ma ciò non significa che tu abbia vinto A pensarci bene, capiti giusto e a proposito Luigi Tu sarai il mio regalo più bello Dopo averti catturato ti offrirò il rebù E lui mi adorerà per questo In fondo è andato tutto per il verso giusto Se ti fossi messo un fiocchio in testa come un pacchetto regalo Sarebbe stato perfetto Forse il rebù ti metterà in bella mostra accanto a questo dipinto Glielo chiedo di sicuro Mario Luigi, se vuoi salvare Mario dovrai trovarmi Sempre che tu non ci lasci le penne per il terrore prima del tempo Io comunque sono qui ad aspettarti Sì, si incipiati tu nel frattempo Ok, Mario è dove lei Dobbiamo trovare lei Ovviamente E siamo messi nei guai Luigi hai visto? Era tuo fratello Ciò significa che la proprietà dell'hotel si farà finalmente vedere È giunto il momento che l'affronti e la sconfiggo una volta per tutte Trovala e salva Mario Oh, è questo che voglio fare È questo che voglio fare Vieni qua Vieni qua tu Che gironzo lì qua Te stai scappando Meglio così Vieni qua Vieni qua, ragnaccio malefico Vieni qua, ragnaccio malefico Ok Io voglio vedere assolutamente come finisce sto gioco Quindi andiamo spediti come non mai Che c'è qua Aspetta che lì Vedo una porta Qua c'è qualcosa Un topolino E che ci faccio col topolino? Qua topolino D'altrimenti non mi fanno continuare Dietro c'è una porta Aspetta un attimo Vediamo un po' Come Luigi Che c'è? C'è un dipinto Non posso passare Ok, così Vediamo che c'è da quella parte Come Luigi, pensaci tu C'è il quadro di Luigi Un poster, quanto meno Ok Venite qua Ragnacci malefici Aspetta che Qua c'è un altro tubo Intanto mi aspiro tutti i ragni Secondo me È possibile che dobbiamo aprire Ah, c'è una leva lì Secondo me dobbiamo aprire il pannello Entriamo Ok Mi aspiro questo Eccoci qua Però non c'è spazio Per tir Mi butto con la peso Mi impico Ok, l'abbiamo tirata Perfetto E fin qua ci siamo Ci possiamo andare Forza Ci possiamo andare Forza Forza Veloce Veloce, Luigi Ok, entriamo Una telecamera Chi è che mi spia? Aspetta, qua ci sono tante stanze C'è un bug che mi guarda C'è un bug che mi guarda Qua Non mi guardate per favore Mi sento osservato Là c'è un grosso bug E qua c'è uno con la lingua E mi lasci in pace Perfetto Perché? Perché mi devo dare un'altra scatola Acceca, acceca qua Tiriamo mezza lingua E tiriamo l'altra lingua Ok Vediamo che c'è in questa stanza Non è chiave Ok Ovviamente Che è successo? Questo posto è pieno di laser invisibili Visto che c'è della polvere a terra Con un sobbalzo puoi sollevarla per un po' di tempo Per individuare i laser Mamma mia E qua è pieno proprio di laser Ok, adesso potrei passare Però aspettiamo un attimo Ok Via Me li potresti spiegare prima certe cose Giusto? Il laser della chiave è sempre attivo Cerchiamo di passare qui Senza fare Senza prendere danno Via, 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 via Ok Scendiamo Ragnetti malefici Mamma mia Quello che c'è lì Mamma mia Quello che c'è qui Aspettiamo Perché dobbiamo capire Nel momento giusto Adesso Via Stacchiami i laser Punta qui Punta qui e stacca tutti i laser Che già mi hanno otto le scarpe Ok E la chiave credo di poterla prendere Giusto Sono quattro chiavi da trovare Ci sono ben quattro chiavi Wow E qui ci passeremo l'eternità Fiasso livello Essendo l'ultimo livello Penso che non abbiamo più Tanto bisogno di monete Abbiamo 42.500 Abbiamo 10 ossa pure Quindi tecnicamente Potremmo andare spediti Come non mai Ok È una chiave recuperata Possiamo uscire Possiamo uscire almeno da qui Intanto già sono con 64 di vita Non lo so Fate voi Che succede qui Non mi tirate le cose Non mi tirate le cose Facce di fantasmi malefici Venite qua Venite qua Non scappate Ciao Ciao Muoviti lui Muoviti lui Aspiriamo Aspiriamogli la codina Non mi tirate le cose Le cose Non me le dovete Tirare Perché siete Maleducati Maleducati Che non siete altro Aspetta Aspetta tu Aspetta che sto ammazzando l'amico tu Aspetta che sto ammazzando l'amico No Amica veloce Allora Vuoi proprio morire subito Giusto Dillo Dillo Che vuoi morire subito Vabbè Che siete veloce Non mi infilate nelle pareti Che qua Non vi posso catturare Ok Dov'è quell'altro Dove siete Facce di capra Facce di capra Che non sei altro Mi stanno ammazzando Di già Sto iniziando ora Oh Un cuoricino per favore Mi servirebbe un cuoricino Adesso lo cerchiamo Qua deve esserci per forza Un cuoricino Eccolo qua Qua abbiamo una porta nascosta Intanto vediamo Se ci sono cuori In giro Oltremicia Mi dai un cuoricino Adesso ti butto giù Ti butto giù Non riesco a buttarla giù Niente Allora Infiliamoci in questa stanza Vediamo un po' È nascosta comunque Adesso la facciamo apparire Ok E vediamo che c'è Pronto Ce ne sono Mi date un cuore Grazie Anche due Grazie Anche tre Se ce l'avete Grazie Grazie mille Anche un'altra Se ce l'avete Non chiedo tanto Dalla vita Ecco Perfetto Allora Dobbiamo andare lì Dobbiamo spegnere il fuoco Ovviamente Magari lo spengo così Però Si riaccende Se mi allontano Quindi Ma tendiamoci Gommi Luigi Pensaci tu Ok Soltanto questo Solo monete Che ci faccio Con le monete Allora Cominciamo ad esplorare qui Perché ovviamente Deve esserci la chiave Ad esempio Qua Faccio girare Ok Eccola lì Eccola lì Ma ovviamente Dobbiamo capire Come entrarci Aspetta che qua C'è Qualcosa Vediamo che c'è qua Una casupola E' il castello Questo Il castello De Buc Che c'è Ciao Sei un faccio di capra Sei Sei un faccio di capra Vieni qua Vieni Non scappare Vieni non scappare Vieni non scappare Vieni non scappare E crepa 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 Ma non mi serve Servono le monete Voglio continuare il gioco Voglio affrontare il boss Niente Allora spostiamo Dove c'è la chiave Magari la recupero Mamma di quanto oro Quanto oro Oh yes Ma sbrigati Lui Prima che scompare tutto Ok Giriamo nuovamente Prendiamo la chiave Allora Posso prenderla tranquillamente Giusto Non mi fate scherzi Eh lo sapevo Lo sapevo Che c'era un problema Tutto pieno di laser Tutto pieno di laser Dovevo staccarli Vediamo dall'altra parte Che c'è Una leva Eccola qua Perfetto Però si accede Dall'altra parte Gommi Luigi Da qua non ci passa Giusto No Si accede All'altra parte Ok Mettiamolo così Gommi Luigi Passa da quell'altra parte E io giro questa Ma Gommi Luigi Può interagire però Con la leva Proviamo Gommi Luigi Pensaci tu Può interagire con la leva Non meno male Ok Laser staccati Grande così Vediamo che c'è Mi butto No non mi butto Giriamo ancora Eccoci qua Perfetto Adesso si che posso prendere questo Ok Prendiamo qua Prendiamo tutto Prendiamo tutto Puro una tazza di bu Voglio la tazza di bu Però l'ho distrutta Però voglio la tazza di bu Ok Distruggiamo tutto qua Ok Qua non c'è niente Almeno Non c'è niente Prendiamo subito la chiave Forza Che maso guadagnata Prendiamo la chiave E siamo a due chiavi Ok Me ne posso andare Me ne posso andare Via Continuiamo così Che c'è? Perché hai sempre paura Di tutto Lui Sono un fifone Sei Vediamo che c'è qua Vabbè niente Procediamo Allora c'è da andare Da questa parte Altre due stanze Con altre due chiavi Guarda lì Un'altra stanza nascosta Ok Vedi a me Palline malefiche Palline malefiche Palline malefiche Non scappate Non scappate Lì dovremo inserire Le quattro chiave Ovviamente Quindi è niente che ci andiamo adesso Vediamo che c'è qua Chi è che si fa la doccia? Il bagno Chi è che si fa il bagno? Io sto entrando E' pure chiuso E là si può staccare il laser Quindi ci sono dei laser Eccoci Eccoci qua I laser Dovete stare Ok Dobbiamo saltarli Aiuto Aiuto Si scivola Si scivola Si scivola Wow Pure questo Non scivoliamo troppo Lui Ai Lui E che cavolo però Aspetta un attimo Lui qua Aiuto Aiuto Sono troppo inserito dai laser Allora Aspetta un attimo Com'è Lui qua Troppo presto Ho saltato Ma dai Ma dai Ma ce la vedo con me Cuoricino Cuoricino Prendi il cuoricino Cuoricino Giro questa Leva sto secchio Mi servo un cuoricino E che è successo? Niente Allora Come che facciamo qua? Allora Lo seguiamo Dopodichè Saltiamo La stessa cosa ho Via Troppo presto Salto ogni volta Perché mi salto Che c'è da fare Apro l'acqua Via Salta Luigi Salta però Che ho preso lì Si è staccata una cosa Un profumino Luigi O ti impegni O ti impegni Nella vita O ti impegni O ti impegni E via E però c'è l'altro dietro Oh ma che facciamo Facciamo E dai su E dai su E stacca stilase Che già non ne posso più Stiamo iniziando ora E già non ne posso più Figuriamoci il boss finale Che deve essere Oh 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 yeah Oh yeah Datemi cuori Tanti cuori per me Che non ci sono però La carta igienica Di soldi Tanti soldi per me Ok Però Preferisco i cuori Perché ne ho pochi Ma alla fine Qua che c'è Scusa Apriamo l'acqua Ok E la chiave allora E la chiave E la chiave E prendiamola Passa lui Che ti sei ingassato Ok Chiave blu Ce l'abbiamo Perfetto Direi che Possiamo tornare indietro Adesso mi assaliranno Altri fantasmi Ovviamente Ovviamente Andiamo di qua Eh ovviamente No No Mi sembra Mi sembra E infatti Mi sembra troppo strano Che non veniva Assalito dai fantasmi Smi Vado di là E come dite voi E seguo gli ordini E va Seguo la vostra stessa E che Allora Se devi morire Per forza Tanti Mamma mia Quanti ce ne sono Mamma Ma eh mamma mia Quanti ce ne sono Ai 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 E leva sto porcellino Dov'è Ma cieca Ma cieca Sti cacchi di cose Ma perché prendi i porcellini Aspiro tutto Puli i porcellini Iiiii Andiamo in una zona Dove non ci sono porcellini Va Senti guarda E cieca Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando E vieni qua Crepa Crepa Tu trepa Mi serve il cuore Ma Il cuore mi serve Prendiamo Prendi il cuore E dai Vieni qua Finalmente Ok Anche queste fa Non erano porcellini Erano bu Le ho scambiate le porcellini Vabbè Chi se ne frega Qua c'è nient'altro Vabbè Niente Ritorniamo sui nostri passi Ciao bu Come sei carino Proprio ti metterai Nella mia stanza Allora Forza Andiamo a recuperarci L'ultima chiave Vediamo che cosa c'è Aspetta Tante more Aspetta Eccolo L'avevo visto Effettivamente Faccia di capo Nascosto Aspetta un attimo La cieco Ok L'avevo visto Ho visto stavolta Faccia di capo Aspire via la lingua Lui Smuoviti lui Smuoviti lui Aspetta Eccoti Togliti dalla strada Che devo prendere la chiave Avanti su Non mi ostacolate più Ah è qua Perfetto Perfetto Ancora Palline malefiche Ok Entriamo Vediamo che cosa c'è qua Ok Che bellettino La chiave però In giro Non si vede E quindi Cerchiamo di trovarla Sarà da questa parte Mi aspiro Qua Il lenzuolo Ok Tantomeno Un po' di cuoricina Adesso ce li ho Vediamo qua Una cosa segreta Ok Una stanza segreta E ovviamente Non potevano mancare i laser Wow Che meraviglia È un ascensore Comunque È un ascensore Aiuto 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 No ma mi state Prendendo in giro Aspetta perché Dobbiamo farlo Con Gommi Luigi Via Gommi Luigi Pensaci tu Gommi Luigi Ok Però così Non riusciamo a salire Aspetta un attimo No 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 È così cadiamo Tutti e due Ma che meraviglia Sto livello Veramente Allora cerchiamo di capire Se io vado qua Poi vado qua Intanto dobbiamo Dobbiamo cercare di farlo salire così Pompando praticamente Via Eccomi Solo che c'è il laser Da quella parte Che non presca Vai Pompiamo E attento Ok Via 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 Ok Andiamo qua E sacchiamo i laser E fino a qua ci siamo Perfetto Adesso che faccio Mi butto Mi butto che è morbido E buttiamoci Che è morbido Via Ok, pompiamo un po' dall'altra parte Un po' da questa parte E mi vado a prendere la chiave Buttati lui che è morbido, perfetto Grande così Tutte le chiave ce le abbiamo Mi butto No, 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 non cadere, non cadere, non cadere, non cadere, non cadere Vedi qua ragno Ragni Guarda che faccia di capra Faccia di capra con inizietà Altro oggi Forza andiamo ad inserire queste chiavi E vediamo che cosa ci aspetta dopo Vado? Io vado Adesso ci saranno altri fantassi Ma guarda qua, guarda Ma guarda quanto è prevedibile No, vabbè Ma stiamo scherzando Crepato Ma esseri malefici Aia, 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 piano Esseri malefici, piano Qua vicino a me Saltami il laser Saltami il laser C'è tutto ora Fantasmi al laser Grande Bellissima cosa Veramente Ma dov'è che spuntate tutti sti fantasmi? Vai Vai Ammazza Aiuto Aiuto Mi sento aggredito Mi sento aggredito Laser, laser Pure quello con lo switch Tutti qua appassionatamente Appassionatamente Tutti qua appassionatamente Via, via Come se non ci fa Sono domani Vieni qua Vieni qua Stato scellente ad attivarsi A riattivarsi Crepato 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 No, no Ma la finiamo di lanciarci a capofitto Contro la gente Per favore Laser, 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 laser Sal E' saltato lo stesso Tutta colpa tua Ti levi dalle pareti Per favore E' crepa E' crepa E' crepa E' crepa E' crepa Tanti cuori per me Ok, ce l'abbiamo fatta Alleluia Inseriamo ste chiavi Inseriamo queste chiavi Ma dov'è che le nascondi ste chiavi giganti? Dov'è che le hai messe? Che sembri poppins Avanti l'ultimo, forse Inserirci qua Ok E' ya Tutto fatto Completo Posso entrare? Posso entrare? Eccola lì Eccola lì In tutto il suo splendore Bene, bene, bene Non pensavo che avessi la stoffa per arrivare fin qui Un fifone come te Chi l'avrebbe mai detto? Effettivamente Qua hai ragione Effettivamente Hai messo a soccuadre il mio hotel Catturato il mio staff con quell'aspirapolvere E soprattutto hai avuto la faccia tosta di sottrarmi il mio tesorino La mia preziosissima poltermice Così in quanto Questo non doveva succedere Arrabbiare Mamma cazzo è brutta Arrivata la befana ragazzi In anticipo Non saresti dovuto riuscire a scappare via dal Rebu come il più miso dei cotardi Se ti fossi lasciato intrappolare in quel quadro Rebu mi avrebbe lodato per la mia abilità E invece Invece ho perso tutta a causa tua Sì, sei continuato in principi artico Ah, adesso sì Adesso sei guardabile quanto me Ah, quindi usa la cipria per diventare jover Vogliamo iniziare? Dovrò occuparmi io di te In questo modo Rebu si fiderà nuovamente di me Si renderà conto di quanto possesse gli uti Ma adesso ti ammazzo Sei pronto Luigi? Fammi divertire, dai E divertiamoci Mario, se n'è andato Ok Aspetta che qui avremo bisogno di combi Luigi Non so bene per far che cosa Dai, dai, su D'altra parte Mamma mia che sono veloci sti las Vai gommi Luigi, pensaci tu Dall'altra parte allora Fatemi capire che devo fare Da qua allora Mi fate capire che devo fare Da qua, da qua Veloce, veloce, veloce Veloce, infilati qua Gommi lui Dov'è che... Ma che devo fare? Dove c'è Carlo? Dov'è? Dove sono? Non si capisce un tubo Ah, sono precipitato Dov'è che... Che devo fare? Mi sono infilato Mi sono infilato in un posticino Posso passare o prendo danno? Aspetta un attimo Stacco questa prima Ok, poi stacco questa Quello muore nel frattempo Ho capito Ma non è che... Una cosa alla volta Per favore Ok, stacco questa Tizia Tizia malefica Aspetta che stacco quella Via Ok Staccato E adesso? Ma che facciamo? Sono morto Wow Fantastico Mi lamentavo che boss erano facili E giustamente adesso li hanno complicati Poltercuccio lo siamo tutti con te Mangia qua e ripristinami la salute Non gli ho dato manco un colpo Allora Aspetta Aspetta che la vado ad accecare Vieni qua Vieni No, devi morire Devi morire Devi morire Crepa Così non la colpirò mai Tizia Mi devi dare lo specchio Tizia Via Via Sei una faccia di capra Aiuto Aiuto No Non mi picchia Crepa Ma che facciamo? Aiuto Mi seguo Mi seguo Mi seguo Vi Ok Ah Quando lei Batte giù lo specchio Tizia Seguimi Posso capire Dopo tre ore Altro laser per me Che bello E via Allora Lei mi segue Cerca di colpirmi con lo specchio Però Polo pianta per terra E io in quel punto Io la ceco E dai E su E crepa Ok Mamma quanta vita La chiave Incipriati per favore Che sei brutta Ecco bravo Ok Ripetiamo la stessa cosa Ci saranno più laser adesso Sono due adesso i laser Wow Oh no Sempre uno Via No Triplo laser Questo non posso evitarlo Non posso saltarlo Però così si Dall'altra parte Dall'altra parte Via Ok Hai finito? Dispararmi laser per favore Grazie E qua è triplo addirittura adesso Vieni qua tizia Da questa parte Che non posso arrivare da te Bisogna che dobbiamo staccare Nuovamente la corrente Bisogna che so Ok Niente Così non possiamo fare niente Vai Gombi Luigi Pensaci tu Vai staccare Vai staccare Stacca questa prima Ok Quindi ci sono Diversari Quindi prima qua E il primo l'abbiamo staccato No Non lo fare No Non lo fare Via Ok Aia Non mi fa passare di là Guarda quante facce di capra Non mi dico che devo fare tutto il giro Vai Gombi Luigi Pensaci tu Veloce Ok stacchiamo quello in alto Veloce Veloce Stacchiamo quello rosa Via Veloce Mi colpiscono Ok Veloce Ok Adesso tecnicamente la possiamo prendere Vai E crepa Aspetta che ho bisogno di cuore Aspetta che ho bisogno di cuore Aspetta che ho bisogno di cuore Aia Ma come siete impani Via L'altra parte Via Ok Fammi Fammi prendere sto coso Ok Tutti i laser Insieme appassionatamente Aspetta che sono più veloce adesso Vi metto qua Via 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 Sei la faccia di capra sei Comunque l'ho staccato Non l'ho staccato No Non lo fare Non lo fa Non lo fare Ma colpito Mi sta massacrando Mi servono cuori Dammi cuori Dammi cuori Dammi cuori Non lo fare tizia Laser Ehi Mi vado a suicidare Forse girandoli così a me Più facile Facciamo il giro accanto alla colonna Così non riesci a prendermi Ma che rottura sti cosi però Possibile che non l'abbia staccato io giù Perché il rose è ancora attivato Ah perché Vai 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 che siamo tutti con te Vai Luigi vai Però c'è il laser Finché ci sono i laser Non possono colpirlo Sto morendo Vai va a staccare quel Checchio di coso rosa Ok Via Via Riesco No No perché Cuore Mi serve un cuore Veloce Veloce un cuore Ok via Luigi Siamo tutti con te Veloce Stacca qui Ok E il verde abbiamo staccato E tecnicamente adesso dovremmo poterla Massaccare Crepa Testa di ramo scena Crepa E che tali da fare Ancora Mi segui così Senza fare niente Meglio per me Perché ti acceco Aia mi ha trascinato Stavolta Alla li dobbiamo staccare tutti Stavolta Facciamoci colpire Vai con me Luigi Siamo tutti con te Dobbiamo guardare sia sopra che sotto E vai Vai così Vai così Faccia di capra Già hai fatto troppo Nella tua vita Mamma mia Ecco Mi lamentavo che boss Erano troppo facili Ma questo Ci ha dato del filo Da torcere Prendi i cuori Lui Poi esulti Prima che scompaiono Veloce Oh alleluia Ce l'abbiamo fatta Mi prendo lo specchio Mi aspiro Ok Salviamo Mario 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 Siamo tutti con te Ok E Mario L'abbiamo salvato Oh yeah Yeah Way to go Luigi Oh yeah E ce l'abbiamo fatta Come on This way This way Let's go Come on Passaggio segreto Come on Mario Ok Ok Ti seguo Mario Io mi fido Non fare scherzi Che è successo Sto rilevando una presenza insolita Dietro quella porta Wow Luigi sei pronta a continuare? Eh certo Ma è tre ore Che sto cercando di finire il gioco Magari mi sto qua allora Va bene allora Non ho altri consigli da darti Metticela tutta Luigi Sei prudente Eh Che è Che è successo? Si è staccata la comunicazione Aia Mi sa che dovremmo affrontare il Rebu ragazzi E sarà tosta come cosa Molto Ma quanto sei faccia di capra pure tu Ma muoviti Ma tanto è veloce quello Luigi non potresti essere veloce come tuo fratello Eccolo Ho visto il Rebu Ho visto il Rebu Ma guarda quanto è veloce Mario Aspetta che io ho le zampette corte Guarda quello come salta Luigi Luigi E prendi esempio No Non cadere Non cadere Luigi Luigi non cadere Resisti Rimani con noi Quello è già arrivato Mario Mario Aspettami Che ho le zampette corte Ancora Il Ragno non me ne frega niente Andiamo Eccoci qua Dov'è che mi stai portando Mario Dovevo salire Guarda quello come Ecco è un ninja E io dovrei fare la stessa cosa E non credo di poterlo fare con Luigi Quello fa il salto a parete E noi non lo facciamo Luigi Tu devi prendere un'altra strada Vabbè Io me ne andrei da qua Che abbiamo qua Il Rebu ovviamente Quindi lo dovrò sconfiggere da solo Quello sono andato Io passo Scale Prendo le scale Visto che non ho la stessa agilità di mio fratello Prendo le scale Ok E fin qua ci siamo Dove di qua Dove di qua siamo arrivati Siamo arrivati Ecco Peach La salviamo Così facile No non credo Aia E' arrivato Lo sapevo Devi essere proprio sicuro di te Se hai il coraggio di affrontarmi Luigi Avresti dovuto dartela a gambe Finchè ne avevi la possibilità E invece se rimasti Hai fatto tutto Per arrivare fin qua su Sei un vero incosciente Certo Hai percorso l'hotel in lungo e in largo Grazie a quelle insulse Invenzioni di Strambic Risucchiando tutti i fantasmi Che hai incontrato Ma Il fatto che tu abbia catturato Tutti quei fantasmi E abbattuto la proprietà dell'hotel Non significa che ci riuscirai con me Quella malberta crisantemi Che rabbia Si è fatta sfuggire i tuoi amici Non sai quanto è frustrante Quando qualcuno che è intrappolato in un dipinto Riesce a liberarsi I fantasmi Tutti degli inetti Come al solito Dovrò cavarmela da solo E fammi vedere che sai fare Guardi sei brutto Non è abbastanza Non avrò nessuna pietà per te Luigi Basta con gli intrighi E con i piani elaborati Ora sperimenterai La forza bruta di Rebu Finirete tutti in un dipinto Insieme diventerete proprio Un bel quadretto Si ma ora la finisci di parlare E combattiamo per favore Pure Pure Strambic È ciò che vi meritate Il quadro è quasi completo Forza tutti insieme Il mio dipinto Adesso è perfetto Scusa per l'attesa Sei pronto Non importa Adesso ti faccio vedere Ancora che Sono i pipistrelli Il cane mio Anziché difendermi Guardalo lì Grazie Di nuovo tutti ha catturato Mi ha salvato comunque Tutti nuovamente catturati Tranne Luigi Grazie al mio cane Un attimo Ne manca uno Dov'è il settimo E mi ha salvato Porta il cucciolo Così impara Che cosa stai facendo là Non ne posso più di te Figurati io Vuoi combattere contro di me? Va bene Fatti sotto Luigi È arrivata la tua fine Una volta per tutte Eccomi E finalmente Questo voglio Aspetta che adesso qua Dobbiamo capire come affrontarlo Che facciamo? No che mi fai Che stai a fare? Ok mi fulmino Dopodiché Mi slinguazza E io che dovrei fare? Gli piglio la lingua È troppo lunga Per essere aspirata Aia Quanto se faccia di capra Va cieco? Non gli faccio niente Pure Ma dovrò fare qualcosa Prima o poi? O cerco solo di evitare Le cose che mi spara l'ultimo? Gli tiro una palla? Gli attivi Ah forse la potevo far Gli la potevo ritirare Gli la potevo ritirare forse Mi sta attirando di tutto La bomba però te la tiro Mira Mangia Com'è buona? È buona effettivamente Ok Se continua così Non è poi tanto Dammi la lingua Dammi la lì Vai con Luigi Pensaci pure tu Tutti e due appassionatamente Ok Crepa 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 Ok Se continuiamo così Non è poi così difficile Adesso sono Adesso sì che è difficile Adesso sono due Si è sdoppiato Ok Mi metto qua Rimango qua Non mi muovo Mi metto qua Non mi muovo Ok Adesso che mi lancia le cose No Non mi schiacciate Ho un detutto Non mi schiacciate Non mi schiacciate Ho un detutto Ho un detutto Comunque c'era Uno finto Uno vero Non mi slinguazzare Per favore Non mi tira le palle Non mi tirare le palle Adesso mi slinguazzo Non lo fare Non lo fate Non lo fa Facce di capra Sempre che mi fregano Con queste lingue Dai L'avevo saltata però Sto crepando Ok No 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 Questa Questa qua Che è Pure Ma così veloci Ma datemi un attimo Di prendere la bomba Cioè devo rifarlo tutto Ma no Ma stavo scherzando Sto crepando Di nuovo lingue No le lingue no Eh dai Mi stanno ammazzando Con le lingue Ma stiamo scherzando E come le evito queste Sono crepato Sono crepato Altro osso per te Polter cucciolo Mangia Mangia piccolato Mangia Loro mi tirano questi Prendo la bomba E non gli succede Niente Ok mangia Era quello finto No Sto scherzando Era quello finto Adesso colpisco Quello di destra Vediamo che succede Mangia Mira Mira Viva loce Ok Come buono Buono E si va a due colpi Mi date un cuore Per favore Tiragli la lingua Tiragli la lingua Tiragli la lingua Tiriamogli La lingua Veloce però Veloce Ok Uno Due Tre Tre Solo tre Ok Ok Sconfitto No Si sta arrabbiando Ancora di più Ancora più grosso E come faccio Ad evitare questo Ora Entreremo Tutti Dentro il quadro Quindi Adesso sono tre No Vabbè Adesso sono tre Ma che bellezza Ok Veloce 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 Ok Colpisco il centrale Mamma mia Mettetecela un'altra Va Aiuto Aia ma colpito Aia Stommo Aspetta Aspetta Piano Con ste palle Era un problema Con due Adesso con tre Impossibile E sto pure crepando Ok Mi sa che vedremo Molto presto Nuovamente Poltercuccio No Le lingue No 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 Non vi arrabbiate Con le lingue Aiuto 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 Ah no Quella che rotola Non le so No Questa che rotola Non le so Niente Non so Cortina Aiuto Che fanno Mi lancio le bombe Sto crepando A chi colpisco Il cent Onda d'urto Che bello Che bello Onda d'urto Mi fregano le lingue A me Perché più che altro Le altre cose Non sono un problema Le lingue Si Piano con le bombe Per favore Piano con le bombe Aspetta Qua la prendo Questa A chi la sparo Questa è centrale Vi mangia Non era lui Non era lui E' quello sempre di destra Allora Il cuore Il cuore Il cuore Mi serve Il cuore Mi serve Leva Tiragno Aspirami il ragno Magari mi da un cuoricino Un cuoricino lì Un cuoricino lì Un cuoricino lì Ok Il centrale Non è lui Ci sto capendo più niente Adesso quelle rotanti Quelle rotanti Non le capisco Adesso Non riesco a passarne una Di queste rotanti E sto crepando nuovamente Allora E' chi colpisco Sempre il primo Perché ancora non l'ho colpito Ok Via Mangia E non era lui Dobbiamo capire Aia Dobbiamo capire qual è Queste rotanti Ah dai Oh Così E' due sono Aspetta un attimo Adesso E' l'altro C'è pure Che è successo Sono ingempato Ma che cos'è che mi ha ucciso Ma stiamo scherzando Adesso colpisco sempre il centrale Prima o poi lo beccherò Non questo Prima o poi lo beccherò Mangia Ok Via di lingua Via Via con la lingua Vai con il Luigi Pensaci anche tu Via con il Luigi Veloce Sballottoliamoli in giro Due Tre E' Aspiralo Mangialo Non Non mangiami C'è Aspiralo Ok Oh L'abbiamo catturato Non ci credo Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Tra pene e guai Tre ossa consumate Però ce l'abbiamo fatta Ok Ok Mi sa che ho parlato Troppo presto Che succede Sta crollando tutto Ciao Ciao Sempre che mi salva la vita Poltercuccio Se non ci fossi tu Dammi la slinguattata Va Un bacio Quello si è sfraccellato Hello Ok dai Tenetemi sto quadro Che li salviamo Ok Ok Oh Wahoo Ah Yahoo Oh Oh yeah Ha 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 Yeah Ha ha Way to go bro Ha 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 Ah ha 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 Oh Che è successo E sono andati tutti Ha ha che sta succedendo ok, mettiamoci tutti a lavorare e ricostruiamo tutto ah, così è andato a finire grande così, ricostruiamo il castello ok ragazzi, finalmente abbiamo finito questa serie di Luigi's Mansion 3, grande bellissimo gioco, mi è piaciuto un casino veramente ben fatto devo dire, ancora? congratulazioni, rango B perché? ah, perché ancora c'è da recuperare tutto praticamente, tutti i vari gioielli eccetera eccetera, ancora continua vi ho finito di lavorare abbiamo fatto amicizia con i fantasmi pure è strambi che è rimasto là, anche con mi Luigi non ci posso credo, abbiamo fatto amicizia con i fantasmi tutto questo lavoro l'avete fatto in 5 persone eh dai lui, è pure qua, hai paura però finito stavolta abbiamo finito per davvero ok, fine bellissimo gioco devo dire veramente veramente una perla ok ragazzi un'altra serie è terminata non mi resta che salutarvi quindi lasciate sempre un bel like e noi ci vediamo ad un prossimo video e ad una prossima serie vi ricordo che potete seguire commento sulla pagina facebook twitter insieme a tutti i altri social di cui trovate il link in descrizione iscrivetevi al canale e poi c'è tutto al prossimo video iscrivetevi al canale grazie a tutti Grazie a tutti.